Bene, abbiamo finito questo Consiglio Europeo. Mi pare che rispetto alle questioni che abbiamo posto c'è una grande attenzione a partire dal tema sulla PAC dove abbiamo ribadito con forza che non ci devono essere tagli e che per quanto riguarda la convergenza esterna noi abbiamo richiamato anche nell'incontro che ho fatto con il nuovo commissario un'attenzione particolare perché noi dobbiamo sostenere i nostri agricoltori sia incentivandoli sempre di più sulle norme di buona coltivazione e quindi su un'assunzione di maggiore responsabilità che significa anche aumento dei costi di produzione ma anche rispetto alle risorse che devono arrivare. Abbiamo posto la questione di un'attenzione particolare e delle verifiche che la Commissione deve fare per quanto riguarda il riso che arriva dal Myanmar che sta aumentando in modo esponenziale e che rischia di essere diciamo un problema per i nostri risicoltori. Di che reazione c'è stata da parte della Commissione del Commissario Hogan su questa questione e degli altri stati membri? Il Commissario Hogan in modo particolare sulle questioni perché abbiamo avuto questo bilaterale io gli ho posto il tema della cimice asiatica perché voi sapete che noi abbiamo destinato nella proposta di legge di bilancio 80 milioni di euro per un risarcimento per i produttori che sono in questo momento soprattutto al nord quelli colpiti ma ho chiesto che ci sia un intervento forte anche da parte della Commissione e il Commissario ci ha dato molta disponibilità a lavorare su questo e sul tema dei dazi. Quello che ho molto apprezzato è l'interesse del Commissario Hogan e la disponibilità a lavorare su strumenti di maggiore flessibilità e soprattutto su risorse destinate alla informazione e alla comunicazione perché noi su questo dobbiamo agire molto non solo per contrastare e per far rimuovere i dazi che ingiustamente i nostri produttori stanno sopportando in termini di costo ma anche facendo conoscere meglio la qualità dei nostri prodotti su quei mercati dove si possono permettere i costi del Made in Italy. Sulla questione Riso visto che è stata sollevata formalmente dall'Italia durante questo Consiglio con la richiesta alla Commissione di valutare la possibilità di attivare la clausa di salvaguardia nei confronti del Myanmar, c'è stata una risposta da parte della Commissione? C'è stata la risposta che assumono il fascicolo e faranno tutte le verifiche, noi abbiamo detto e ribadito che i nostri uffici sono a disposizione della Commissione anche per quanto riguarda eventuali informazioni ulteriori che hanno bisogno di assumere ma anche di verifiche che loro devono fare in autonomia. Sì c'è stata un'apertura su questo ma ovviamente non possiamo far precipitare una decisione perché oggi era l'apertura formale del tema. La Commissione ha proposto una proposta della parte, una riforma della parte che va nel senso di rinazionalizzare in gran parte le politiche ed è il senso contrario a quello che invece molti volevano perché c'è un problema di controlli che mancano, si è visto per esempio in Slovacchia, in Repubblica Cega, in Iberia eccetera. L'Italia che posizione ha su questa riforma proposta? Come avrete chi di voi ha seguito i lavori sa che noi abbiamo posto nell'intervento che abbiamo fatto oggi sul tema specifico la questione, abbiamo risottolineato a tutta la Commissione, a tutto il Consiglio che per quanto riguarda l'Italia c'è anche un problema di struttura istituzionale diciamo che ci vincola a ragionare sulla presenza delle regioni. C'è questo confronto in atto, il confronto non è ancora chiuso e l'auspicio è quello che alla fine si riesca ad arrivare ad una sintesi che tenga insieme la migliore soluzione possibile. In questo momento non c'è e per quanto riguarda l'Italia ribadiamo come abbiamo detto anche nell'incontro con gli assessori regionali prima di venire a questo Consiglio noi siamo tenuti a rispettare quella che è la struttura istituzionale che prevede il ruolo delle regioni. Poi per quanto riguarda l'uso delle risorse e la programmazione è evidente che l'uso delle risorse deve stare nella disponibilità delle regioni, per quanto riguarda la programmazione dobbiamo fare tutti uno sforzo enorme per arrivare ad avere una sintesi soddisfacente per tutti.